grazie lofty il carico è pronto tiny ci vediamo lassù serve la grande forza del piccolo tiny wow la più alta gru mai vista tutto fatto tiny ehi tiny vuoi giocare con me a io spio io spio sai che posso vedere tutto da quassù vero lofty non importa io sono bravo a io spio comincio io io spio con il mio piccolo occhio una cosa che è arancione cono stradale non ci credo ok tiny tocca a te adesso perfetto lofty io spio con il mio piccolo occhio una cosa che non spiare una cosa dall'altra parte di spring city ok non lo farò io spio una cosa che è blu una cosa blu 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 l'ufficio mobile sì no oh il gilet di bob sì ancora una volta no di nuovo ma io sono blu sono io lofty tu spi lofty sì sei tu tocca a me io spio che abbiamo ancora moltissimo lavoro da fare prendiamo il prossimo carico per favore lofty oh perfetto è vero bob ci vediamo tiny posso ancora vedervi entrambi sapete ancora ci riesco ancora scoop questo è il posto dove vengono ideati gli edifici più belli di tutta spring city adoro questo posto è casa mia è la casa di tutta la squadra hai ragione scoop a volte mi sembra di aver bisogno di tre mani hai solo bisogno del lavoro di squadra permesso bob scusa bob nessun problema trottola attenta oh no hai perso qualcosa mac e vai grazie bob sempre lieto di aiutarti wendy altro materiale da costruzione bob grazie dueton no fermo non ne avevo così tanta voglia in fondo va tutto bene lofty certo va sempre tutto bene bob forse non proprio tutto lofty vai così scoop grazie wendy è sicuro finirò per battere il mio record di velocità di scavo sì hai già finito scoop bob ho appena battuto il mio record il più veloce scavo di un fossato di tutti i tempi wow congratulazioni scommetto che potrei battere anche il mio record del più veloce riempimento hai finito bob non ancora scoop e adesso? no adesso? no adesso ho finito scoop è tutto tuo divertiti a battere il tuo record sì ce l'ho fatta il più veloce scavo e riempimento di un fossato di tutti i tempi ero sicura di aver lasciato qui la cassetta degli attrezzi sì penso di averla vista anch'io forse l'avrò posata da qualche altra parte a meno che oh no devo averla seppellita provata wendy ho trovato la tua cassetta grazie scoop ce l'ho fatta ho battuto il mio record di scavo e riempimento di un fossato due volte due volte scoop sì due volte fatto una sagoma a forma di onda credo che starà davvero bene sulla vetrata dell'acquario assomiglia proprio alla pinna di uno squalo Leo è un'onda Lofty ma hai ragione assomiglia anche a una pinna di squalo attento Lofty immagina se il cantiere fosse pieno di squali io uscirei subito dall'acqua ti stai esercitando Leo? fantastico forza Lofty dobbiamo andare adesso non dimenticare gli squali meglio che metta un po' a posto qui ehi dove ho lasciato il cellulare? ahah eccolo lì oh un attimo io l'acqua non la tocco oh oh eh oh 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 ok bene bene manteniamo l'equilibrio nessuno squalo riuscirà a catturarmi oh 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 il cellulare oh devo rispondere oh sembra rischioso ma ecco qua oh 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 pronto sono Leo ciao Leo sono Bob sei stato catturato dagli squali eh 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 ciao Bob che mi dici dei leoni? leoni? eh era uno scherzo io lo sapevo esatto comunque i dinosauri hanno fatto scappare i leoni oh 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 Bob Wendy posso guardare mi piace come aggiusti gli aggeggi elettrici certo rullo fa pure per prima cosa devo controllare che tutti i fili siano al posto giusto e che siano collegati a dovere oh sembra complicato il segreto sta nel concentrarsi e nel fare una cosa alla volta è così che lavoro io oh Mark meglio preparare tre assi per il lavoro di riparazione grazie sicuro Wendy bene controlliamo i livelli di potenza ops un attimo salve signor Bentley sì Bob sarà da lei a momenti ok a presto allora i livelli di potenza sono a posto dove può essere finita la scaletta? oh Leo ce l'hai dietro di te oh come ho fatto a non vederla un ultimo controllo andiamo al lavoro Scoop Bob il tuo pranzo ops che occhio Wendy fatto ed è così che lavoro io forte di certo fai un sacco di cose Wendy ma solo una alla volta Rullo è questo il segreto ci vediamo Rullo Wendy di certo fa un sacco di cose una alla volta ma grande forza del piccolo Tiny ecco a te Bob 201 mattoni wow è proprio il numero esatto Tiny come hai indovinato non ho indovinato so quanto pesa un mattone e quel carico sembrava 201 volte più pesante sei davvero un esperto di sollevamenti posso dirti cosa sto sollevando semplicemente dal tocco ne sono sempre stato capace è un dono da gru immagino posso dirti la forma di cosa è fatto il carico se è di legno o metallo o mattoni come è imballato tutto quanto ok allora Tiny vediamo quanto sei bravo sì adoro questo genere di sfide caricami ok Tiny abbassa il tuo uncino e non sbirciare ti prometto che non sbircerò prova questo assi di legno sono sei sì te l'avevo detto otto tubi un asse un trapano una scatola per attrezzi un cono stradale sì e oh e c'è un cellulare sopra l'asse esatto sei incredibile ok un ultimo carico Tiny ah sì ok Tiny cos'è questo oh è troppo facile è il tuo pranzo e sono dei sandwich con le sardine no ma come sì come fai ad esserne così sicuro sento l'odore Bob perfino da quassù hanno un profumo davvero delizioso non è vero? a dire la verità non ne sono tanto sicuro eeeh fatto oh è piatto come un pancake rullo sei il miglior rullo di tutti i tempi davvero? oh lo pensi veramente trottola sì tu sei una vera leggenda rullo sei davvero fantastico hai appiattito ogni cosa spring city oh il mio pranzo a volte passo sopra delle cose sulle quali non dovrei passare già ma comunque potresti appiattire qualunque cosa e scommetto scommetto che potresti appiattire perfino quella collina facilmente senza problemi potrei voglio dire potrei oh certo che potresti puoi farlo senza il minimo sforzo sì sì sta a vedere oh sei una vera leggenda in realtà in realtà questo lavoro è un po' più difficile di quanto pensassi questa è buona rullo dico sul serio non si sta appiattendo per niente certo che no è un lavoro troppo grande per un solo rullo compressore ma rullo è il miglior rullo di tutti i tempi bob di tutti i tempi so che lo è trottola bob ha ragione alcune cose possono essere appiattite altre no quello era di nuovo il tuo pranzo vero? scusami tanto il mio pranzo è perfettamente appiattito ma è ovvio che sia perfettamente appiattito sei il miglior rullo compressore di tutti i tempi forte grazie bob sono mac il gigante della montagna gigante mac mi piace ciao bob mac ho bisogno che tu vada a prendere gli aggregati rimasti dai lavori della settimana per favore certo che si bob grazie gigante mac oh e non dimenticare di metterli nei compartimenti per materiali andiamo scoop devo prendere tutti gli aggregati che sono avanzati e creare la montagna del gigante mac Wendy questo aggregato è da portare via certo è tutto tuo mac sì grazie Wendy montagna di mac eccomi che arrivo gigante mac oh tranne per il fatto che non è ancora diventata gigantesca un gigante ha bisogno di una montagna non di un mucchietto sì in cima al mondo fantastico bello mac non credevo fosse avanzato un simile quantitativo sono il gigante mac e questa è la montagna del gigante mac è da inchino ma ti dispiace mettere tutto nei compartimenti per materiali ricordi? oh sì subito bob grazie gigante mac grazie mille Grazie a tutti.